Ciao, mi trovo a Rozzano, vicino a casa dei miei e mi sto allenando adesso per la preparazione degli europei anche con sede, ho trovato un posto bellissimo, il Street Gorillaz, adesso inizia il mio allenamento, ho fatto il primo riscaldamento con 20 kg di swing, 20 e 30, swing con 20 kg e adesso faccia piana. 55 kg perché non ci sono presi da me e mezzo, ho 25 kg quindi... Allora ragazzi, qua è troppo figo perché mi hanno dato treppiede, credo sono abituata a me e mezzo, mancano i pesi da me e mezzo, ma chi se ne frega, c'è il preppiede, non so, aspetta che lo devo regolare però che sennò qua non sono senza, se io sono l'attezza di uomo quindi devo diminuire un pochino. Ok, adesso regolo, poi andiamo. Ok, ci siamo, io sto Antonio, siamo a 3,35 kg e 55 invece sono 52, perdonami, però ammenda, ho mangiato di più, sono un po' più grassa, ce la posso fare, ok. Sono un po' più grassi, a 1,35 kg. Oh, no, assi, passi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.